Presso la Chiesa Madre dei Santissimi Pietro e Paolo si è svolto l'evento Vocazione, itinerario verso Cristo di Pietro, Paolo e Francesco, moderato e introdotto dal parroco della stessa Chiesa Don Carlo Pisani con l'intervento della critica d'arte Antonella Nigro e il frate Vincenzo Ippolito. E in che modo si incrociano le vite di questi Santi? Beh, la Vocazione come inizio, come diceva padre Vincenzo, come momento dell'incontro con Cristo, che accade attraverso circostanze e modalità diverse. Lo stesso Cristo che si presenta agli uomini attraverso la propria storia, attraverso il proprio vissuto personale. Quindi a Pietro nella sua attività lavorativa che era la pesca, a Paolo mentre si recava a Damasco per mettere in catene i seguaci della via, così come erano chiamati i cristiani. A Francesco attraverso una serie di episodi concatenati, quindi almeno tre episodi, il ritorno dalla guerra, l'incontro con il crucivisto San Damiano e poi la spogliazione degli averi. Quindi tre diverse circostanze che però costituiscono questo unicum della sua chiamata verso questo cammino di sequela di Cristo che poi ha come, evidenziava padre Vincenzo, meta come fine ultimo, la piena conformazione del credente a Cristo stesso. San Pietro e San Paolo, i fondatori della Chiesa di Roma, l'uno è il primo tra i discepoli, il secondo l'Apostolo delle Genti. In che modo avviene la loro vocazione? Tutto si concentra sull'incontro con Gesù Cristo, due incontri complementari ma altrettanto significativi. Il primo era un pescatore che incontra Gesù Cristo ed è proprio il figlio di Dio fatto uomo che intercetta la sua vita, i suoi passi e il fallimento di una notte diventa abbondanza in obbedienza alla parola di Cristo. L'altro invece Paolo, potremmo dire avversario del cristianesimo, diventa invece lo streno difensore della relazione con Cristo che ha in un certo senso polarizzato tutta quanta la sua vita. E' proprio la categoria dell'incontro con Cristo che determina la trasformazione di queste due persone che diventano proprio i fondamenti, le colonne della fede della Chiesa. E guardando a loro anche noi riscopriamo l'importanza di incontrare Gesù Cristo e lasciare che la sua parola plasmi la nostra esistenza e determini un cambiamento della nostra vita. Attraverso quali opere si intrecciano arte e religione riguardo alla vocazione di San Francesco, San Pietro e San Paolo? Allora, stasera per il tema della vocazione abbiamo preso in considerazione Caravaggio, quindi con la conversione di San Paolo che è conservata a Roma, le due versioni. Successivamente, sempre per la conversione di Paolo, abbiamo preso in considerazione anche il parmigianino e Luca Giordano, ovviamente Mattia Preti, che ha operato anche in zona da noi. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla vocazione di Pietro, siamo partiti dalla decorazione musiva di Santa Pollinare a Ravenna, poi siamo passati naturalmente attraverso altre raffigurazioni, fino alla contemporaneità di Giam Tissot e poi siamo passati invece alla raffigurazione di Francesco, in realtà nella Basilica di Assisi, quindi tutto il ciclo pittorico, noi siamo dei 28 affreschi, però noi ci siamo concentrati in realtà sulla vocazione, quindi in realtà su due affreschi in particolare, in particolare, cioè quello della rinuncia dei beni e quello invece relativo poi alla preghiera davanti al crocifisso di San Damiano.